un altro pezzo di grande Roma era un uomo dolcissimo, un grande professionista che ha fatto tanto per questa Roma non solo nel nostro periodo ma in tanti anni di Roma scusatemi, per me è un grande dolore, è un momento veramente brutto per la Roma come società non voglio parlare di Giorgio no no come società inteso